Ciao, io sono Christian. Oggi la baita casa è appunto in Valtellina, località Briotti. Vi voglio presentare questa splendida baita tutta a sasso e legno, composta da anglocottura, soggiorno, tre camere, bagno, giardino di proprietà e una vista imperdibile su tutte le alpi retiche. Andiamo a visitarla insieme. Grazie a tutti. Ci è piaciuta questa splendida baita? Bene, vieni a visitare il nostro sito per tutte le informazioni www.labaitacase.com e a presto!